Ok, 5 secondi di nero per il media reader. E' 1, e' 2, e' 3, e' 4, e' 5. Tichino presenta, titolo, quartiere 2. L'altro giorno sono uscito di casa. Qui c'era una vecchia terra di schiena, come una tartaruga che non riesce più a girarsi. Mi sono avvicinato e le ho chiesto come stava. Ho chiamato l'ambulanza, pioveva, e mentre aspettavo l'ho coperta col mio ombrello. Ho lasciato il mio design poco distante, di più o meno, ci pioveva sopra. Mi sembrava brutto preoccuparmi del computer, perché qui c'era una vecchia terra. Novembre 2011, tema quartiere www.tichino.ch